Il conducente di un veicolo che causa un incidente ricollegabile al proprio comportamento ha l'obbligo di fermarsi e soccorrere eventuali persone che abbiano riportato danni alla persona proprio in virtù di questo incidente. In caso di impatto e di emergenza è necessario mettersi e mettere in sicurezza il luogo dell'accaduto come posizionando innanzitutto un triangolo di emergenza 50 metri prima della zona dell'incidente e se possibile posizionare una persona che segnali l'accaduto alle vetture che stanno arrivando 200 metri prima della posizione dell'impatto. È importante quindi evitare di spostare o muovere la persona ferita perché non sappiamo mai quali danni può aver riportato e inoltre ricordiamoci che una persona in stato di incoscienza non è in grado di deglutire quindi evitiamo assolutamente di introdurre dei liquidi all'interno della bocca o magari cercare di dare da bere a questa persona. Immediatamente avvisiamo i soccorsi e cerchiamo di essere assolutamente precisi nelle informazioni che forniamo loro evitiamo di perdere tempo di lungarci nel racconto di che cosa è accaduto ma andiamo dritto al fatto e cerchiamo di segnalare l'eventualità di una persona ferita. E finché i soccorsi non saranno arrivati mi raccomando restate al fianco della persona ferita e cercate di darle supporto e soprattutto cercate di tranquillizzarla il più possibile. Grazie a tutti.